Il grande calcio giovanile ancora protagonista di Biela, il torino primavera di mister Coppitelli dopo l'ennesimo pareggio maturato contro la Sampdoria, disputerà il venticinquesimo turno del campionato primavera Time Vision sul rettangolo dello stadio Pozzola Marmora di Biela. I Granata si confronteranno con gli emiliani della SPAL, appuntamento fissato per sabato 19 marzo con fischio d'inizio alle 17, i cancelli dello stadio apriranno un'ora prima rispetto al fischio d'inizio. Si ricorda che per l'accesso è obbligatorio il Green Pass. La collaborazione prosegue, sottolinea l'assessore Moscarola, siamo felici di poter promuovere i nostri impianti sportivi con la primavera del Torino. Per la città di Biela è motivo di orgoglio, ospitale partite importanti senza contare l'indotto che questo genera su alberghi e ristoranti. Avere eventi di questa portata non capita tutti i giorni e un invito a tutta la cittadinanza per assistere a un match giovanile che sarà di altissimo livello. Il precedente, Torino e SPAL, si sono affrontate nell'ottava giornata di campionato lo scorso 7 novembre. La sfida allora si era conclusa con una vittoria per il Granata a segno per 2-0.